Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui in questo video abbiamo fatto il ritorno in una casa che abbiamo esplorato tantissimo tempo fa insieme a Robby che sta registrando per il suo canale volevamo saltare da un tetto all'altro ma ci siamo resi conto che è troppo distante di quanto avevamo previsto quindi adesso esploreremo prima la cantina poi questo... anzi Robby anzi ti va di fare una cosa figa? ci dividiamo tu qua, io gli appartamenti ci vediamo dopo ok stiamo facendo esattamente quello che nei film horror fanno sempre e muoiono ci siamo divisi scale, scale, scale ok ma guarda qua è una misteria ok allora guardate qua la roba wow che spreco non vuoi che entri e come la metti se io entrassi? sono il lupo cattivo citazione presa da Shining hola una corda un martello qui fanno palestra mi piace mi piace sigarette non pesa da un chilo siete scarsi soltanto un chilo dovete impararsi da me ragazzi il bagno è occupato qui scusate forse avrei dovuto bussare ma che cazzo ha due bagni attaccati? ragazzi sapete che puzza si ok continuiamo todis bello accendino sono un po' anche disordinati qua ok qua tutta roba messa così a caso mi piace mi piace perfetto allora fino a posto devo al cambio io vado per là è lo spazioso iphone vedete quando ci scorda la scheda SD a casa maledetti buonasera me lo sono piantato lì salve che c'abbiamo qua? e qua tutta roba accata è stata così così che cos'è quello? quello sembra un decoder lavando sedia vernice forno e casco non c'è niente di che qua il tetto non mi rassicura per niente cambiamo zona rosica perché uè Robby buongiorno non si vede niente Robby non si vede niente di che